Dove l'occhio non può arrivare, arriva Side Assistant. Immagina, stai per effettuare un sorpasso. In quel momento i due sensori radar nel paraurti posteriore controllano l'angolo cieco dietro al tuo veicolo fino a 70 metri e un LED ad alta intensità si accende nello specchietto retrovisore laterale se il sistema rileva la presenza di un'altra auto in quest'area. Side Assistant, un'altra soluzione SimpliClever per guidare in piena sicurezza. Grazie a tutti.